ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video bentornati ancora una volta sul mio canale non sono completamente rincoglianito non vi preoccupate sono in casa con gli occhiali da sole perché siroco ha deciso di continuare la collaborazione promuovendo questi occhiali sono gli originals della siroco a 39 euro comprandone uno ne avrete addirittura due quindi è un'offerta che è valida per tutto il periodo natalizio e se potete insomma approfittatene anche magari per fare un regalo uno ve lo tenete per voi uno lo regalate a chi volete ed è sicuramente vantaggioso non solo le promozioni continuano anche sulla serie beat generation dove c'è il 40 per cento di sconto inoltre siroco ha lanciato una nuova linea si chiama sportive che non sono occhiali tecnici come la serie tech di cui hanno esaurito tutte le scorte tanto sono piaciuti la serie sportive invece una serie diciamo sportiva ma comunque alla moda fashion e lì c'è se non ricordo male il 25 per cento di sconto quindi ragazzi che dire a me questi occhiali piacciono molto perché è un modello molto semplice le lenti l'ho già sperimentate all'aperto sono molto buone oggi ve lo presento metto qua sotto in descrizione il link per fare eventualmente qualche acquisto dato che il natale è vicino speriscono abbastanza rapidamente se ce la fate riuscirete ad averli anche per natale quindi ragazzi da parte mia e da parte di siroco ancora una volta auguri di buone feste noi ci vediamo al prossimo video buon allenamento e alla prossima ciao